Eccoci rientrati in diretta. Allora Andrea, adesso faremo un po' un riassunto di quello che è successo questa settimana con le notizie più importanti, quelle principali. Ne abbiamo parlato anche poco fa con la dottoressa, non c'è stato un passaggio sul Covid, quindi apriamo proprio con il Covid e andiamo a fare il punto con il servizio di Lorenzo Petrucci. Prosegue il calo di contagi e ospedalizzazioni per Covid-19. Nella settimana 7-13 settembre le infezioni sono scese del 12,9%, i ricoveri in terapia intensiva dell'11,9%, quelli ordinari del 13,3% rispetto alla settimana precedente. Lo rileva il nuovo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe. Da quattro settimane consecutive, afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, prosegue la lenta discesa dei nuovi casi settimanali che si attestano intorno a quota 108.000, con una media mobile a 7 giorni, circa 15.000 casi al giorno. L'incidenza rimane sotto i 500 casi per 100.000 abitanti in tutte le province, dai 76 casi per 100.000 abitanti di Barletta Andrea Trani ai 338 di Pescara. In questo contesto però, secondo Cartabellotta, il tema della riapertura in sicurezza delle scuole nel vortice della campagna elettorale non ha ricevuto l'attenzione necessaria. Il piano predisposto per l'anno scolastico 2022-2023 appare inadeguato non tanto per le misure previste, quanto per le raccomandazioni spesso generiche e soprattutto per le eccessive responsabilità scaricate sulle scuole, prive delle necessarie risorse e competenze sanitarie. Il rischio è quello di un impatto rilevante sulla circolazione virale e sulla salute pubblica, ma anche sui giorni di scuola perduti. Allora Andrea, non so se tu hai questa percezione, la stessa mia, insomma abbiamo un po' mollato la presa come atteggiamento. Io penso che ce l'hanno tutti questa percezione perché la gente non ne poteva più, non ne poteva più, l'hanno sempre dichiarato, specialmente per mezzo social perché ormai praticamente si esternano le emozioni e le sensazioni direttamente andando su Facebook o su Instagram e naturalmente là si riesce ad avere un pacchetto. Ma non basta soltanto il colpo d'occhio quando vai in giro, al supermercato. Inesistenti ormai praticamente le mascherine. Sì, ecco, qualsiasi tipo di protezione, mascherina o qualsiasi altra cosa ormai è forse qualcuno sull'autobus. Dove ancora vige comunque l'obbligatorietà del, se non sbaglio, di avere la mascherina comunque. Solo sul treno, paradossalmente solo sul treno. Che poi? Eh, potremmo stare qui a parlare di questo perché al treno sì, in aereo quando devi farti un viaggio magari di nove ore non te lo metti, sei immune. No, oppure sei, c'è questo treno nuovo che va da Milano, arriva a Parigi, allora tu finché sei nel confine italiano devi avere la mascherina. Come sorpassi il confine, lo superi, te la puoi togliere. È paradossale. Va bene, queste insomma sono... Paradossale e soprattutto comunque la gente anche in tutto ciò, poi dobbiamo sottolineare la ricerca dell'equilibrio, quell'equilibrio che manca sempre comunque tra i virologi, perché non so se hai visto, anche continuano la lotta tra chi pensa, o meglio chi dice, perché allora partiamo da un presupposto, tutti dicono che adesso in autunno l'allarme c'è sempre, perché in autunno col fatto che sono ripartite le scuole, le fabbriche e tutto quanto, e tutti sono ritornati dalle vacanze, praticamente si arriverà a un punto in cui i contagi risaliranno. A tal proposito c'è stato, come si dicevo, stiamo facendo un tet a tet, un tet a tet invece tra Burioni e Bassetti, che naturalmente ormai conosciamo veramente a mena dito, e praticamente qua due scuole di pensiero. In primis Burioni, che dice, virus è più aggressivo, Bassetti dall'altra parte lo frena, basta terrorizzare le persone, sì i numeri saliranno, però la situazione è diversa dal 2020 e 2021. Il problema è che se uno fa così sempre comunque a fare festa e corna a vicenda, che cosa succede? Che poi tu praticamente non riesci a dare equilibrio alle persone, e quindi porti avanti uno stato d'animo che naturalmente rispetto a prima è diverso. Però ormai c'è un'opinione pubblica abbastanza diffusa, evidentemente se la percezione di cui stavamo parlando poco fa, cioè quelli di avere un atteggiamento comunque più normale, ecco, siamo un po' rientrati tutta nella normalità, magari ci dimentichiamo spesso la mascherina, ma nei locali pubblici, nel ristorante, ma in qualsiasi posto, mi viene in mente, vuol dire che la percezione è quella che la situazione comunque è sotto controllo, indipendentemente dal fatto che i numeri possono salire o meno, però non ci troviamo più in una situazione di emergenza come quella del primo stato iniziale, assolutamente, adesso siamo quasi tutti vaccinati, quasi tutti con tre vaccini, probabilmente vedremo se... Ne sono già usciti anche i nuovi aggiornati, quindi tutto ciò, mi raccomando sempre stare sul pezzo, le persone fragili devono vaccinarsi, bisogna farle comunque, bisogna andare avanti, avere fiducia sempre. Siamo un po' ripresi la nostra vita in mano, ecco, possiamo dire così assolutamente. Da prima o poi doveva anche arrivare il momento, però sempre sull'attento e sempre avendo fiducia nelle istituzioni mediche. A tal proposito allora, se mi dà il permesso, visto che abbiamo parlato per l'appunto di vari pareri, di esimi, virologi e tutto quanto, andiamo a sentire anche il parere di chi è stato un protagonista naturalmente che ci ha fatto, vorrei dire purtroppo che però è stato sempre anche simpatico nel modo in cui si proponeva. Che mi è piaciuto. Tanto che ha dato tanto fiducia a noi italiani, l'ha trasmessa, la fiducia perché poi era una persona competente, perché sapeva assolutamente e sa di cosa sta parlando. Infatti per mezzo social è stato il più amato, proprio commenti sotto le sue foto, se ti fanno giù su Instagram che lo vedi, piace, è simpatico, ammodo, perché poi lui non è uno di quelli che dice e dispiace che non si sia ricandidato. Che non si sia ricandidato, lui ha detto io tornerò a fare il professore perché il mio dovere l'ho fatto, che poi gli ha dato atto anche di questo, un'ora di una persona veramente integra. Stiamo parlando di Pier Paolo Sileri che è intervenuto proprio qui a Radio Cusano, qui, lì facciamo, a Radio Cusano Campus e ha voluto dire la sua proprio in merito a questa situazione il sottosegretario del Ministero della Salute e anche lui è stato molto positivo in merito. Andiamo a sentirci l'estratto. Voglio dire, abbiamo delle problematiche più imminenti, c'è la pandemia bene o male è alle nostre spalle. Ora uno può dire che è la fase di transizione ma è quasi finita anche questa, cioè ormai andiamo verso l'indemia, quindi diciamo la pandemia non dovrebbe preoccuparci più o meglio c'è chi è più sensibile e giustamente si preoccupa di più ma insomma le notizie che abbiamo sono tali per il quale possiamo, non dico archiviare la pratica, ricordarci che i più fragili hanno a disposizione un vaccino aggiornato, che è opportuno farlo ma insomma diciamo il peggio non tornerà. Oh quindi una ventata di ottimismo da parte di Sileri ci sta in qualche modo rassicurando. Io sono assolutamente esposo sul suo pensiero, devo essere sincera. Ma è anche giusto comunque perché non si può sempre, anche nel momento di difficoltà, vedere per forza nero non giova, non giova perché poi ti porta ecco purtroppo, mi ricollego a quello che è successo prima, vedere troppo nero e non riuscire a trovare un metodo di reazione ti porta anche ad avere situazioni di questo genere, di situazioni anche che ne abbiamo avute durante il periodo di Covid. Nonostante tutto comunque uno esulta perché ha ripreso la normalità, però ci sono stati dei problemi, degli effetti collaterali, perché naturalmente il Paese si ferma e stiamo ancora recuperando purtroppo da questa situazione anche a livello economico, ma tutto il mondo. Tutto il mondo sembra essere tornato indietro di cinque anni, allora andiamo a vedere insieme il servizio per capire bene. Lo ha paralizzato per mesi e continua a condizionarlo ormai da circa due anni e mezzo, ma secondo le Nazioni Unite il Covid ha anche riportato il mondo indietro di cinque anni per quanto riguarda la salute, l'aspettativa e il tenore di vita e l'istruzione. A rilevare il salto indietro che ha fatto il pianeta a causa della pandemia è un rapporto dell'ONU, secondo il quale per la prima volta dalla sua creazione l'indice di sviluppo umano è diminuito per due anni consecutivi, nel 2020 e nel 2021, tornando al livello del 2016. Per il programma di sviluppo delle Nazioni Unite si tratta di un immenso declino che coinvolge più del 90% dei paesi. Inoltre, avverte il dossier, la guerra in Ucraina potrebbe peggiorare ulteriormente la situazione. In Italia intanto si conferma la decrescita di tutti gli indici della curva epidemica su base settimanale. Il monitoraggio indipendente dalla fondazione Gimbe registra una riduzione di contagi, ospedalizzazioni ed eccessi. Dal 31 agosto al 6 settembre, infatti, i recovery in area medica sono scesi del 17,8% e quelli in terapia intensiva del 18,1%. Anche a livello globale, l'Organizzazione Mondiale della Sanità segnala un calo del 12% sul numero di casi settimanali fra il 29 agosto e il 4 settembre 2022 rispetto alla settimana precedente. È chiaro, è chiaro, cioè è normale, il mondo si è fermato e quindi adesso sotto il punto di vista economico ne sta pagando le conseguenze. Non solo, non solo, c'è anche una guerra in questo momento che ha aumentato la crisi economica. Assolutamente sì, la guerra in Ucraina naturalmente che sta durando da quel maledetto febbraio, che ora com'ora alla fine la stiamo vedendo nemmeno quando ci dice la luce nel tunnel, questa luce non la stiamo vedendo. Inevitabilmente ha proprio alzato i costi, ecco lo stiamo vedendo anche dalle immagini, che cosa sono? Queste sono le immagini di una diga distrutta da parte dell'esercito russo dove nel paese d'antale del presidente del popolo ucraino Zelensky, praticamente un'operazione militare questa qua che ha portato alla distruzione totale, lo stiamo vedendo praticamente, che ogni volta comunque, poi tra parentesi e cinzia quando si vedono queste cose, che siano palazzi, dighe e tutto quanto, e noi sappiamo che le ci vivono delle persone, è una cosa assolutamente atroce. è stato di fatto che questo ha portato alla ferma reazione proprio da parte del presidente Zelensky stesso, che cosa ha detto? Che praticamente sono gesti questi, naturalmente lì è uscito fuori anche il valore affettivo, però il valore affettivo ha detto non saranno queste azioni sicuramente a farci fermare, noi continueremo a resistere come abbiamo sempre fatto e quindi andremo avanti, perché alla fine vinceremo, ha detto, e la Russia non solo perderà questa guerra, ma perderà anche la storia. Assolutamente, allora andiamo a vedere insieme l'estratto di Zelensky. E скажo, товарищам по-русски, сегодняшние ваши ракetные удары, русские ракеты по кривому рогу, по дамбе Карачиновского водохранилища, по объектам, которые не имеют вообще никакой военной ценности, фактически по сотням тысяч обычных мирных людей. Это еще одна причина, почему Россия проиграет. Проиграет не только эту войну, а саму историю, историю пишут люди, не люди никогда. Кем вы останетесь в истории? Все те, кто бьет этими ракетами, те, кто пришел на нашу землю, слабаками, вы слабаки, которые воюют с гражданскими, подлецами, которые, сбежав с поля боя, пытаются навредить откуда там издалека. террористами в Астанске, которые будут стыдиться их собственные внуки. На месте ракетного удары по кривому рогу все, чтобы ликвидировать последствия этой червовой российской эпидности, эпидности, которая, возможно, понравится божевельным российским пропагандистам, но точно не врятает психологический состояние российских солдат. Они понимали, что российское командование бездарное, и что их ожидает в Украине на всех направлениях, никаким террором эта Россия не выбирает, потому что террор только подтверждает слабакиваемость того, кто до него вдаёт. Я хочу понять, если кто-то possa dirci bene o male quando questa guerra finirà perché si sta veramente andando all'estremo delle forze o meglio si è già andato anche molto probabilmente forse questo è anche un concetto che non si aspettava nemmeno il presidente Putin e lui pensava così come abbiamo potuto sentire durante questi mesi del fatto di riuscire praticamente a denazificare dall'Occidente tutta quanta l'Ucraina un ragionamento questo che naturalmente ha portato a considerare Putin stesso anche un folle perché naturalmente parlare di nazismo nel 2022 sicuramente fa stride mettiamola in questo modo stride sta di fatto che però da questo punto di vista anche chi in teoria dovrebbe essere alleato della Russia comincia ad esprimere le sue perplessità cienzia perché oggi c'è stato il primo incontro tra Russia e Cina quindi Xi Jinping insieme a Putin solamente che per la prima volta si è visto un Vladimir Putin non preoccupato ma teso perché? Perché è riuscito naturalmente riuscito tra virgolette ad esternare le preoccupazioni del suo collega proprio in merito a questa guerra in Ucraina lui ha valutato la posizione equilibrata della Cina però ha anche sottolineato il fatto che la Cina stessa è molto preoccupata da questa vicenda e naturalmente questa è una cosa che non ha giovato all'umore del presidente russo per il semplice motivo che ha paura che a lungo andare in una guerra dove lui non si aspettava di portarla avanti così tanto possa non cambiare idea ma cominciare a ragionare in una maniera differente così come poteva pensare Putin stesso e tutti sapevamo che comunque la Cina spalleggiasse la Russia e comunque non è la prima volta che si vede Putin un po' nervoso cioè inizia a essere nervoso ovviamente da un po' perché la situazione gli sta sfuggendo dalle mani una situazione che vede anche sempre più aumentare i nemici anche a livello di pensiero perché ecco a tal proposito ha parlato pure il Papa perché naturalmente si è espresso anche Papa Francesco in merito a questa guerra tanti sono stati gli appelli proprio del Papa stesso che ha detto bisogna smettere immediatamente a tal proposito però è stato durante il suo volo di ritorno dal Kazakistan dove si era recato gli è stata fatta una domanda cioè bisogna dare le armi all'Ucraina Papa Francesco ha risposto difendersi quando è necessario espressione di amore e patria e l'amore alla patria soprattutto quindi diciamo che lui ha appoggiato questa volontà di aiutare l'Ucraina in questo momento molto difficile per il paese dunque secondo Papa Francesco le armi è la selezione giusta anche perché è l'unico modo per dare all'Ucraina la possibilità di difendersi perché altrimenti sarebbe crollata veramente dopo due giorni è un ragionamento dovuto anche al fatto che comunque serve anche per quelle persone perché poi ecco lo stiamo leggendo in questo momento sono proprio parole di poco fa di 17 minuti fa che dice le persone si girano e guardano solamente guerra e distruzione naturalmente collega il tutto al fatto che bisogna trovare una soluzione per poter porre naturalmente questo fine naturalmente quella delle armi è un concetto anche molto estremo perché naturalmente nessuno vorrebbe arrivare alle armi però come ha detto proprio il Papa stesso ormai siamo arrivati a un punto dove questo mezzo si praticamente reputa necessario per arrivare perché siamo a un punto di non ritorno però la posizione anche l'insicurezza che si è vista in faccia a Putin durante l'incontro con Xi Jinping fa pensare magari di un presidente che comincia un po' a scricchiolare non a livello di presenza come presidente russo ma proprio come livello di concetto visto che come hai detto tu non si aspettava nemmeno che durasse così tanto assolutamente adesso vedremo quello che accadrà ovviamente l'ospicio di tutti è che questa guerra termini il prima possibile e che si possa tornare anche a vivere sotto questo punto di vista in maniera normale più che altro perché sappiamo quello che ha comportato la guerra i costi poi ne parleremo e purtroppo del gas, dell'elettricità insomma che non vale solo per noi ma vale per tutti assolutamente specialmente per l'Europa tra l'altro hai anticipato poco fa insomma gli argomenti di questa sera andremo a parlare ovviamente anche di quello che accadrà in Inghilterra il 19 settembre ci saranno i funerali e ovviamente Putin non è stato invitato ci saranno i capi di stato di tutto il mondo escluso Putin e qualcun altro insomma saranno tre persone sarebbe stato strano il contrario sì assolutamente ci sarà Biden ovviamente per l'America e non ci sarà Trump è stato invitato proprio in forma privata sembrerebbe Obama ne parliamo dopo scusate mi sono fatta un po' prendere da questo discorso passiamo al prossimo argomento non prima però di averti aggiornato anche in me visto che tu hai detto la speranza di tutti quanti ovvero che possiamo aprire il telegiornale e non parlare più di guerra in Ucraina però Putin continua da questo punto di vista a puntare dritto infatti rinforza l'esercito del presidente russo infatti entro il 2022 saranno ben 137 mila i nuovi soldati che andranno in terra Ucraina per appoggiare l'ideale russo che poi l'ideale russo posso dire poveri ragazzi però va bene posso dire poveri ragazzi poveri ragazzi assolutamente infatti ci sono anche tantissimi pensieri in merito anche di soldati russi che vanno contro il concetto del presidente Putin però sanno che andare contro a determinati ideali comporta anche a delle determinate conseguenze detto ciò allora cambiamo invece adesso argomento andiamo ad un argomento più leggero naturalmente però è importante è importante allo stesso assolutamente sì perché si parla di scuola io faccio outing e dico che sono assolutamente d'accordo con quello che questa scuola di Bologna questo istituto di Bologna ha fatto adesso andiamo a vedere guardatevi negli occhi posate i cellulari immaginiamo questa scritta sopra la classe più chiacchierata del momento siamo al liceo Malpighi di Bologna a scuola che visti i tempi ha segnato una rottura rispetto alle abitudini attuali niente smartphone in classe divieto assoluto per tutti gli studenti di usare il telefonino in aula tutto ciò ovviamente ha suscitato non poche polemiche il presidente del prestigioso liceo Malpighi di Bologna ha spiegato che i richiami sono inutili difficile se non quasi impossibile chiedere agli studenti il distacco dall'uso persuasivo e distrattivo dello smartphone la novità introdotta quest'anno scolastico nell'istituto superiore paritario arriva dopo una sperimentazione su scala ridotta ed è stata una scelta di un collegio di docenti e consiglio d'istituto del resto dello stop agli smartphone a scuola si parla da tempo ovunque in Italia e allo stesso Malpighi c'è stato un lungo dibattito durato mesi che infine ha portato alla decisione drastica tutti dovranno consegnare il proprio telefono all'ingresso prima dell'inizio delle lezioni l'apparecchio verrà poi riconsegnato all'uscita secondo l'istituto il telefono non solo distraeva in classe durante le lezioni e i laboratori ma anche durante l'intervallo spesso diventa un ostacolo al rapporto con gli altri ragazzi non consentendo le giuste relazioni e interazioni sociali che si devono invece creare tra pari forse per citare qualcuno non vale più la frase hey teacher leave them kids alone di certo con questa misura le uniche cose a restare alone saranno smartphone tablet e cellulari ecco io il mio auspicio è che questo provvedimento venga adottato anche negli altri istituti di tutta Italia i ragazzi mi odieranno però effettivamente sono attaccati odiatela no ma sono attaccati al cellulare in maniera possessiva ma tu guarda velocissimamente prima di passare subito al prossimo argomento io perché sono della vecchia guardia 30 anni che mi porto splendidamente all'epoca io comunque non uscivo da scuola e stavo col cellulare sul muretto andavo al parco per giocare fino a tardi fino a che non arrivava tua madre che prendeva urlato e diceva devi tornare a casa che devi mangiare e dormire che domani è scuola bellissimo adesso io per caso sono passato davanti a un istituto un muretto e ho detto bello i ragazzi sono tutti così isolati ma io mi sono talmente incuriosito mi sono talmente incuriosito che ho detto ma che state facendo sai qual è stata la risposta dobbiamo finire giga e quindi stiamo parlando con whatsapp cioè la risposta è stata questa mi ha messo di un brivido tutta la schiena che poi mi è venuto di mente se io dicevo una cosa del genere a mia madre no è aberrante fino a che diventavano pari perché c'è questo provvedimento proprio per dar modo a ragazzi di socializzare di parlare tra di loro durante la ricreazione perché non lo fanno si isolano con il cellulare e via e quindi si ritorna un po' delle vecchie ma sani abitudini benvengano benvengano magari anche a casa perché a tavola utilizzano sempre il cellulare e non parlano e invece servono anche esempi da questo punto di vista assolutamente vanno adottati provvedimenti come questi quindi io sono assolutamente a favore a favorissimo bisogna avere abbiamo detto anche degli esempi uno di questi sai chi può essere che tanto già lo sai e cambiamo anche qui argomento Samantha Cristoforetti e perché parliamo di Samantha Cristoforetti? perché è un esempio per tutti perfetto parla non si sa quante lingue astronauta colta vetti tutto possiamo parlare un enco donna lo dico donna l'ha detto donna donna Samantha Cristoforetti dell'agenzia spaziale europea che sarà comandante della stazione spaziale internazionale quindi orgoglio italiano in tutto il mondo in tutto il mondo sono onorata della mia nomina comandante ha detto la Cristoforetti non vedo l'ora di attingere all'esperienza che ho acquisito nello spazio e sulla terra per guidare una squadra molto capace in orbite quando adesso ho letto questa parte per guidare una squadra se andate in brodo di giugiole perché donna che comanda eh sì donna che comanda insomma brava dobbiamo essere orgogliosi donna che comanda poi naturalmente nostro patrimonio nazionale assolutamente ovviamente anche insomma di competenza di cultura sì sì assolutamente di bravura e competenza e allora a tal proposito andiamo velocissimamente visto che ci mancano pochi minuti e poi sarà nuovamente pubblicità a sentire proprio le parole della Cristoforetti che dà lo spazio infatti adesso lo vedete questo video con questi capelli un po' naif diciamo in collegamento con il presidente del Europarlamento Mezzola con cui hanno parlato per l'appunto e il presidente stesso ha detto tu per noi sei un esempio ciao Samantha hello madam president it's such an honor to welcome you here on board of the international space station and through you and the European Parliament as elected representatives of all of Europeans I feel like today I have an opportunity to welcome every European man woman and child on the international space station so thank you for this privilege and this opportunity well first of all hello Samantha è un grande piacere di conoscerti dallo spazio sei una fonte di sperazione per molti di noi congratulations very much Samantha on becoming the first female European commander of the international space station and I love the flag that you are standing in front of thank you yes it's a privilege and an honor to be able to display the European flag here today and this particular flag will fly back home with me in a few weeks when the mission is over and so I will be very honored if there would be an opportunity to hand it over to you as president of the European Parliament well the honor would be all mine I would very much like to meet with you in person when you come back that's that's really really that's that's this we have seen a video with smile continue we with because we have told you prisma to the face of the cronaca we are talking to the Italy absolutely Assolutamente, senza dubbio, perché prisma a tutte le facce della cronaca, vuol dire che si tratta tutta la cronaca, come abbiamo detto in apertura, e tra queste anche la cronaca sportiva. Perché la cronaca sportiva? Perché per la quarta volta siamo campioni del mondo nel volley, Little Volley, grande prestazione, in casa contro la... Non faremo i mondiali di calcio, però vedi, noi vinciamo altri mondiali, a noi ci piace, andiamo a vincere a casa degli altri, come nel 2006, ci piace vincere a casa degli altri, una prestazione fantastica di una squadra che praticamente ha confermato di essere tra le più forti. La più forte al mondo, l'ha dimostrato anche senza lo Tsar Zaitsev, che là il mister De Giorgi è stato molto attaccato, perché come fai a non portare quello che tira gli scaldabagni, come dicevano? E naturalmente alla fine ha avuto ragione De Giorgi per il semplice motivo che ha vinto, e naturalmente è felice tutta l'Italia, è felice anche il presidente Mattarella, che ha ricevuto naturalmente tutta quanta la squadra, Mattarella anche molto sportivo, ha detto vi ho visto, ha preso pure un po' in giro la Polonia, con simpatia. Gli altri sport devono prendere esempio dal volia. Andiamo a sentire proprio il discorso del presidente Mattarella. Eccolo. Benvenuti al Quirinale, campioni del mondo. E' una... complimenti ai più affettuosi, intensi e più sentiti. Complimenti al presidente Manfredi, che ieri sera alla premiazione mi è parso il più emozionato di tutti. Complimenti davvero, è stata una... una serata non dimenticabile. Molti di voi sono già stati qui al Quirinale un anno addietro, da campioni europei, in un'altra sala. Eravamo, mi sembra, nel Salone Corrazzieri, insieme alle ragazze. E quindi eravamo una sala più grande. Venire e vedervi di nuovo qui, quelli che c'erano, e quegli altri, quei pochi che sono aggiunti, in questo anno è una... davvero un grande piacere. E' una... Io cerco di seguire la pallavolo quando posso. E ho seguito anche i commenti, le critiche dei commentatori sportivi, nei giorni di avvicinamento ai mondiali. E leggevo che è una scala molto giovane, tanto giovane che mi sento con la mia età piuttosto a disagio, insieme a voi, un po' fuori posto. Mi ricordo bene il 98 e il mondiale di quell'anno. Però, commissario tecnico De Giorgi, vincere tre campionati nel mondo a giocatore è una... un'impresa. Ma vincere... Anche da allenatore è un'altra... Bella immagine però di un matriaco sportivo. Parlando di sport, io adesso mi metto a piangere. Perché? Dillo tu. Dillo tu. Perché Federer ha annunciato il suo ritiro. Ormai era praticamente già ritirato, ha solo perfezionato... Si vede la mia disperazione. Con il suo annuncio ufficiale. È arrivato l'annuncio ufficiale. Si ritira il re. Si ritira il re assolutamente. A tal proposito, allora, visto che siamo proprio in chiuso, noi facciamo così. Per dare il giusto onore non basterebbe una vita intera, praticamente, a raccontare le sue gesta. Allora, lanciamo questo servizio direttamente di Roger Federer, anche se qui alla mia sinistra c'è chi ti fa per Rafa e Nadal, vergognati. Eh, vabbè, ma ragazzi, ancora per poco, perché adesso anche Nadal non si sa quanto andrà avanti. Vergognati comunque. E andiamo proprio a sentire, tramite il servizio di Giorgio Mastro Giacomo, quello che è stato praticamente per tutti noi Roger Federer. Lanciamo il servizio, andiamo subito in pubblicità, e poi torniamo perché abbiamo ancora tantissimi argomenti da trattare. Qui, su Prisma. 15 settembre 2022. Nella storia del tennis sarà per sempre una data storica. Il giorno in cui il più amato, il più grande, il re Roger Federer, ha annunciato al mondo che la Laver Cup della prossima settimana, allo 2 Arena di Londra, sarà il suo ultimo evento. L'ultima volta in cui vedremo in campo Federer, le sue magie e la sua eleganza. Un personaggio che va oltre le 20 vittorie slam, oltre i 103 titoli conquistati in carriera. E così, dopo Serena Williams, anche Roger lascia. Con un senso di vuoto molto simile a un lutto, che sarà difficile da elaborare in tempi brevi. Il messaggio è arrivato su Instagram, con una foto in ferma immagine e un audio. Di tutti i regali che mi ha fatto il tennis, il più grande è l'amore della gente e le persone che ho avuto la fortuna di conoscere lungo tutta la strada, recita il discorso d'oddio. Per questo, voglio condividere con voi questa notizia. La Laver Cup sarà il mio ultimo torneo. So che mi mancherà tutto degli ultimi 24 anni, ma negli ultimi tre ho avuto tanti problemi e infortuni. Il tennis mi ha trattato in modo più generoso di quanto avrei mai immaginato e ora devo riconoscere quando è il momento di terminare la mia carriera agonistica.